Punto per punto. Rocco Palese, capogruppo del PDL in Consiglio regionale, ha rimandato al mittente le accuse del governatore Vendola e dell'assessore alla salute Fiore a proposito della presunta attività persecutoria del Governo centrale attraverso la manovra economica in tema di sanità e stabilizzazioni. In conferenza stampa, affiancato dal capogruppo dei pugliesi, Davide Bellomo, dal coordinatore regionale della Puglia prima di tutto, Tato Greco, e dai consiglieri del PDL Massimo Cassano e Lucio Tarquinio, Palese ha rintuzzato ogni addebito, precisando prima di tutto che la sentenza della Corte Costituzionale della Discordia, la numero 42 dell'11 febbraio del 2011, è scaturita da una richiesta del Tarra, a sua volta chiamato in causa, da alcuni medici e non, come è stato più volte detto, è scritto dal Governo nazionale o addirittura da alcuni ministri in particolare. Nei primi sei mesi del 2011, oltre 20 sentenze della Corte Costituzionale per tutte le regioni, di centro-destra, di centro-sinistra, del nord e del sud, sono state rese illegittime, così come quella della Puglia, cioè sul problema delle stabilizzazioni del personale, della sanità e di altro, cioè personale. Quindi è una norma di sistema, non è per niente per la Puglia, anzi è a favore, cioè della gente, è a favore pure del rispetto di quello che la Corte Costituzionale decide. Noi denunciamo invece che dopo sei mesi, perché la sentenza è la 42 dell'11 febbraio del 2011, la nostra regione è rimasta ferma, inattiva, cioè senza provvedere a risolvere il problema. Mi stupisce che Vendola continui a chiedere al Governo nazionale quello che lui ha votato e quello che lui ha già. Si attivi.